È il 26 novembre 2010. A Brembate di sopra, piccolo comune in provincia di Bergamo, Yara Gambirasio, 13 anni, esce di casa, si reca al vicino centro sportivo per i consueti allenamenti di ginnastica ritmica, poi sparisce nel buio della sera. I genitori si allarmano e scattano subito le ricerche dei carabinieri, ma è impossibile risalire ai suoi spostamenti. Le telecamere che si trovano nell'area sono fuori uso. I segnali del telefonino della ragazza portano fuori Brembate, fino a Mapello, a tre chilometri di distanza. Per le ricerche vengono impiegati anche i cani. Fiutano le tracce molecolari di Yara all'interno di un cantiere. I carabinieri fermano un operaio di origine marocchina, ma la pista si rivela un buco nell'acqua e le speranze di ritrovare viva la piccola si fanno sempre più flebili. Poi il triste epilogo. Tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, a Chignolo d'Isola, a 10 chilometri da Brembate, un uomo trova, per caso, in un campo, il corpo senza vita di Yara. L'autopsia sul suo corpicino martoriato rivela tracce di DNA riconducibili a un soggetto, identificato come ignoto 1. Al termine di indagini e analisi si risale a Massimo Bossetti, 44enne residente a Mapello. Non è solamente il DNA a incastrarlo. C'è anche un filmato che riprende il furgone dell'uomo proprio davanti al centro sportivo dove si allenava Yara, pochi giorni prima della sua scomparsa. Bossetti viene arrestato il 16 giugno 2014. L'iter processuale si conclude con la Corte di Cassazione, che il 12 ottobre 2018 conferma la condanna all'ergastolo, rendendola definitiva. Allora, saluto l'avvocato Claudio Salvagni, che è avvocato di Bossetti. Benvenuto avvocato. Prima di darle la parola, però con Francesca Martelli in collegamento da Brambate. Francesca. Esatto. Questa è la palestra che frequentava Yara Gambirasio, che amava moltissimo la ginnastica ritmica. Secondo gli inquirenti, il 26 novembre di dieci anni fa, Yara è uscita da questa palestra, ha fatto qualche passo, ha girato alla mia sinistra. Perché? Perché qui in fondo, a circa 700 metri da qui, c'è la sua casa. Casa in cui sappiamo purtroppo non essere mai arrivata. Noi oggi siamo qui, lo dicevi anche tu prima, perché a dieci anni da quella terribile tragedia è nata un'associazione che si chiama La Passione di Yara, di cui fanno parte anche i suoi genitori, che sostiene proprio economicamente i ragazzi dai 13 anni, quindi l'età di Yara Gambirasio, in su nella loro formazione sportiva e artistica per quelle famiglie che hanno difficoltà economiche. Vi faccio sentire quello che ci ha detto poco fa la preside della scuola media di Yara Gambirasio, suor Carla e il presidente di questa associazione. Quello che Yara ha lasciato in ricordo a tutti è la passione per la vita, per il vivere, per lo sport, per la danza, per qualsiasi cosa, cioè la passione per la quotidianità. Che ricordo ha di quel periodo? Allora, è stato un periodo duro per tutti, duro per gli adulti, per determinate situazioni, duro per i ragazzi. Quello che noi abbiamo scelto immediatamente di fare come scuola è di cercare di far diventare educativa questa situazione. Tor Carla ha lanciato l'idea in accordo con il professore di ginnastica di Yara, di lanciare una situazione coinvolgendo da subito i genitori. La solidarietà ne hanno riduciuta tanta, ne riceveranno tanta, ma perché sono persone umili e al stesso tempo sono persone sincere. Senza di loro la situazione non riesce ad andare avanti. Diciamo che le loro testimonianze, le loro essere presenti con noi sono da stimolo anche noi e credo che anche per loro sia una buona soddisfazione. Il loro figlio, il sorriso del loro figlio, viene stampato in questi ragazzi. Questa secondo me è la cosa più bella che loro possono desiderare, ricordare il suo figlio nei sorrisi dei ragazzi. Noi ci uniamo in queste parole con un abbraccio da parte di tutti noi alla famiglia di Yara. Però, detto questo, c'è una persona che è in carcere, condannato in via definitiva, che chiede avvocato di riconsiderare le prove e si dichiara innocente. Allora, io volevo ripartire proprio dal suo ragionamento che è utilizzato per introdurre questo servizio. O c'è un mitomane in carcere o c'è una persona, un innocente, che continua a gridare la sua innocenza. Io voglio sottolineare questo. Questo uomo, Massimo Bossetti, ha chiesto da sempre, in ogni fase del processo, che venisse concessa una perizia, proprio perché abbiamo trovato tante anomalie in quel DNA. Questa perizia non è mai stata concessa. E lui continua a chiedere questo elemento, perché è l'unico elemento che lo può scagionare. Le sentenze sottolineano come, senza il DNA, gli altri indizi non hanno neanche il pregio di essere degli indizi. Quindi l'unica cosa che può ribaltare questo processo è il DNA. Si è sempre dichiarato innocente? Io dico, se chiunque di noi, se no, accusato di un delitto così grave, sapendosi innocente, cosa poteva chiedere? Rifate il DNA perché c'è un errore. Ecco, ha chiesto sempre e soltanto questo. Anche in udienza. Non ha mai detto assolvetemi. Ha detto, fate una volta questa perizia, vi accorgerete che c'è un errore e mi lasciate andare a casa dai miei figli. Questo è quello che continua a chiedere Massimo Bossetti dal primo giorno in cui è stato arrestato e questo è quello che continua a chiedere ancora oggi. Io spero che finalmente si arriverà a questo esame del DNA che potrà consentire poi una revisione. Sembra di capire dalle sue parole che lei crede fermamente nell'innocenza del suo cliente. Devo dire che gli ultimi delitti, da quello di Chiara Poggi a Persino a Erba, insomma, i colpevoli, ormai colpevoli, non più presunti per i condannati in via definitiva, si proclamano innocenti e chiedono la revisione del processo. E su questo, insomma... Posso aggiungere solo una cosa? Che non è che però, senza adesso voler rifare tutta la storia del processo, non è che il DNA sia stato fatto da un singolo laboratorio. Come l'avvocato sa bene, fu fatto da più laboratori in contemporanea e furono tutte risposte uguali che davano una probabilità di errore, una ogni miliardi di miliardi. Cioè, di questo stiamo parlando. Poi possiamo entrare nella disquisizione sul DNA di un tipo, di un altro tipo, però la sostanza era quella. Casualmente dai DNA non è uscito un signore che abitava in Congo, in Cina, ma uno che passava di lì, molto vicino. Questo per riassumere in modo, mi rendo conto, brutale. Aspetta, Alba, scusami perché c'è Giovanni Terzi che ha incontrato in carcere... Mi scuso per la sintesi brutale, ma insomma per far capire di cosa stiamo parlando. Hai avuto modo, Giovanni, se non ricordo male? No, io in carcere non l'ho mai incontrato, ci siamo scritti delle lettere... Siete scritti, ricordavo male. E io, purtroppo, mi dispiace perché questo è un momento in cui si deve ricordare la povera Yara, che comunque è la vittima di questo atroce delitto avvenuto dieci anni fa. Detto questo, io devo dire che sono stati fatti più laboratori il DNA, ma poi dopo non è mai stato fatto dalla difesa. Io credo che sia giusto che una difesa abbia la possibilità di avere in mano quel materiale che permetta di fare un riscontro anch'essa. Cioè mi sembra una roba abbastanza normale. Peraltro all'interno di un sistema molto vago, dove addirittura San Raffaele diceva che c'erano dei reperti del DNA e la procura diceva di no. Quindi diciamo che un po' di... qualche piccola cosa c'è, no? Non la metterei solo semplice, l'hanno fatta in tanti laboratori e quindi tutti hanno dato un risultato. Non l'ha mai fatta la difesa. Non l'ha mai fatta la difesa. E credo che sia giusto che la difesa possa... Hanno fatto tanti laboratori, non è vero che non l'hanno fatta. Io vorrei farvi una... Ma non la difesa, Stefano.